Oggi a NOS TV parleremo dell'incidente mortale avvenuto stamattina a San Sino di Livenza, della nuova ambulanza in dotazione al pronto soccorso di Portogruaro, del Giffoni Film Festival e di molto altro ancora. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG di NOS TV. Partiamo subito con la prima notizia. San Sino di Livenza piange ancora una volta a una vittima della strada. Questa mattina, attorno alle 7.45, ha perso la vita un uomo di 46 anni, originario della frazione di Corbolone. L'incidente è avvenuto a Salgareda, in via risorgimento. Per cause, ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una vettura Citroen C2, con alla guida un 29enne del posto e la moto su cui viaggiava il 46enne sanstinese, che si stava recando al lavoro. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Code e disagi questa mattina in A4, fra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro, in direzione a Venezia. A causarle, un tamponamento fra tre mezzi pesanti, avvenuto poco prima delle 9, all'altezza dell'area di servizio di Fratta. Sul posto, la polizia stradale, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e il personale del 118 sono arrivati per soccorrere uno dei tre conducenti rimasto ferito. Autovie Venete ha provveduto a istituire l'uscita obbligatoria alla tisana. Il tratto autostradale fra la tisana e Portogruaro è stato riaperto poco dopo le 10.30. Dopo giorni di polemiche sui social legati al taglio dei primi 30 alberi di Viale Santa Margherita, torniamo a Caorle per capire quali saranno gli alberi piantati lungo il viale entro l'estate 2020. Sentiamo il servizio. Sono giorni di vibranti polemiche sui social network dopo l'avvio dei lavori del primo stralcio della riqualificazione di Viale Santa Margherita che hanno portato all'abbattimento dei primi 30 pini domestici. Oltre a chi contesta la decisione di tagliare gli alberi dal punto di vista ambientale e da chi difende l'operato dell'amministrazione comunale, c'è chi si chiede invece quali essenze arboree saranno piantate una volta completati i lavori che porteranno alla realizzazione della nuova pista ciclabile e del nuovo manto stradale. Sulla questione è intervenuto il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Giovanni Comisso, il quale ha precisato che entro l'estate del prossimo anno, lungo il primo tratto di Viale Santa Margherita, saranno piantumati 35 alberi tra querce, lecci, aceri e carpini di altezza compresa tra i 4 e gli 8 metri. Oltre agli alberi saranno piantati anche 400 arbusti ornamentali simili a quelli posizionati nelle aree verdi di Lido Altanea. In 18 anni di attività, il corso di laurea in infermieristica di Portogruaro ha sfornato ben 523 infermieri. Stamattina, al Collegio Marconi, l'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020. Sentiamo il servizio. Tanta partecipazione questa mattina in via seminario 35 all'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Padova, che vede ben 77 nuovi matricolati, di cui il 40% dal Veneto orientale e il 16% dal Friuli Venezia Giulia. Il corso di laurea è stato fortemente voluto e sostenuto dalla direzione aziendale dell'Ulss4 e conta annualmente circa 180 studenti iscritti nei tre anni. Nei 18 anni di attività ha formato oltre 500 infermieri. La volontà di mantenere il corso di laurea infermieristica nel territorio del Veneto orientale, spiegano dall'Ulss, è legata all'idea che avere la formazione universitaria in azienda rappresenti uno stimolo formativo per i giovani e un incentivo per chi già lavora grazie al quotidiano scambio e confronto di idee ed esperienze con gli studenti. La disponibilità di nuovi giovani professionisti laureati è inoltre garanzia di copertura del turnover del personale infermieristico che esce dal mercato del lavoro per pensionamento o altre condizioni. Anche quest'anno la discussione delle tesi degli studenti della sede di Portogruaro avverrà nella prestigiosa cornice della Biblioteca Antica del Collegio Marconi il 15 e 22 novembre. Nella sessione autunnale i laureati saranno 34. È entrata in servizio lunedì e dopo pochi minuti è già intervenuta per un'emergenza sul territorio. Si tratta della nuovissima ambulanza in dotazione al pronto soccorso di Portogruaro, una Volkswagen Crafter allestita per il soccorso avanzato di moderna concezione. Il vano sanitario, concepito per offrire il massimo comfort a pazienti e operatori, riproduce una piccola sala rianimatoria. Tra le dotazioni sanitarie spiccano un aspiratore portatile potenziato, un monitor defibrillatore in grado di trasmettere l'elettrocardiogramma dal luogo dell'emergenza alla cardiologia ospedaliera per avere in tempo reale la valutazione dello stato del paziente. È in corso di svolgimento in questi giorni, a Sandona di Piave, il Festival School Experience, festival itinerante inserito nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola in collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero per i Beni Culturali. L'iniziativa rientra nell'ambito dei progetti Giffoni Opportunity. Il festival, a Sandona, coinvolgerà circa 2.000 studenti. Sì, salve a tutti. Siamo qui oggi finalmente per inaugurare la prima edizione del Festival School Experience finanziato e promosso da Murenbibak all'interno del progetto Cinema per la Scuola 2018. Il festival toccherà quattro regioni fondamentalmente. La prima tappa abbiamo ovviamente deciso di scegliere Sandona per una serie di rapporti che abbiamo da tempo, come avete menzionato. Quindi il terreno è fertile, i ragazzini saranno coinvolti in tante attività, laboratori, workshop, anche laboratori per i docenti, ma le attività focali saranno in primis il cinema, quindi con le tre sezioni in concorso, Future Experience con i lungometraggi, Short Experience con i cortometraggi professional e Your Experience con i cortometraggi delle scuole italiane, delle associazioni che li hanno supportati. Invitiamo chiaramente la popolazione a partecipare, ci saranno oltre in tutto il festival che toccherà le quattro regioni, come dicevamo, circa 10.000 presenze di studenti. a Sandona ipotizziamo oltre 2.000 presenze tra studenti e 200 per i docenti. Altro punto finale che sarà poi presentato nella serata del 24 è la realizzazione del cortometraggio che vedrà coinvolti tutti gli istituti del territorio del Basso Piave. Quindi vi invitiamo a partecipare e buona visione. Utilizzare lo strumento del cinema, ma soprattutto del film, fatto bene, e bello per ad esempio scegliere cosa vogliono diventare da grandi. Questa è una delle esperienze più magiche che può offrire appunto questa arte che consente di volare nel tempo e nello spazio pur restando sempre fissi due ore nello stesso luogo. È un privilegio perché essere associati a questa esperienza di Giffoni per la quale ringrazio il direttore Claudio Gubitosi, in qualche modo ha portato una ricchezza a Sandona, quella di vedere dei ragazzi e delle ragazze felici di quello che stanno facendo, ma soprattutto anche di mettere in moto l'esperienza della riflessione, del confronto, eccetera, proprio per confrontarsi e crescere. Buonasera a tutti. Oggi è qui con noi a NostiV, Nicolo Giacomelli, vice direttore del centro commerciale Adriatico 2 di Portogruaro. Ciao Nicolo. Ciao Greta, buonasera a tutti. Oggi è venuto qui per parlarci della seconda edizione dell'evento che si terrà questo weekend proprio al centro commerciale Adriatico 2, Camminar Mangiando. Sì, questo weekend dal 25 al 27 ottobre, lo ricordo, dalle 10 alle 20 presso le gallerie del centro commerciale Adriatico 2 ci saranno otto operatori del territorio che esporranno e avranno la possibilità di vendere i loro prodotti. Questi otto operatori sono stati selezionati, alcuni di loro sono già venuti in occasione della prima edizione nel 2018, e hanno deciso di tornare. Sono stati selezionati in base alla loro qualità e ai prodotti che porteranno. Sono aziende vitivinicole, sono artigiani, sono anche agriturismi, che appunto promuoveranno le loro attività e ne daranno saggio a chi vorrà venire a trovarli al centro commerciale. Ecco Nicolo, raccontaci come mai avete deciso di dare vita a questa tipologia di evento, proprio all'interno del centro commerciale. Ci sembrava giusto dare la possibilità anche ad aziende, diciamo, familiari o comunque molto piccole, di avere un palco che meritano, perché il centro commerciale, essendo un luogo di ritrovo per decine di migliaia di persone tutti i giorni e soprattutto durante il fine settimana, può essere la giusta vetrina per l'eccellenza del territorio, per la qualità che possono mettere sul piatto e sicuramente riusciranno a darci soddisfazione anche quest'anno. Bene, allora noi vi ricordiamo che questo weekend, 25, 26 e 27 ottobre, presso il centro commerciale Adriatico 2, ci sarà la seconda edizione del Vento Camminar Mangiando. Vi aspettiamo, grazie e buona serata. Grazie, buona serata, grazie mille Nicolò di essere stato con noi. Grazie. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che NostiV è disponibile su Facebook, Instagram, YouTube e sul canale Il13 digitando il tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Vi ringraziamo per averci seguiti. Arrivederci. Grazie a tutti.